Durante questo Master stiamo avendo la possibilità di affiancare alle lezioni teoriche anche delle testimonianze di manager, imprenditori e giornalisti che sicuramente danno un taglio molto concreto alle tematiche affrontate. In questo senso anche gli international meeting sono stato un classico esempio proprio perché ci hanno permesso di allargare la nostra prospettiva anche a livello internazionale affrontando quelle che sono le diverse dinamiche sociali, politiche ed economiche internazionali.